Un gol per tre punti che valgono oro in chiave playoff. La Vigortrani torna a ruggire, ritrova la via del successo in campionato e si aggiudica lo scontro diretto contro il Mola. Un guizzo di Gennaro Manzari nei minuti finali consente ai biancazzurri scesi in campo in maglia gialla di consolidare la quarta posizione in classifica. Per il momento l'ultima utile per accedere alla fase regionale degli spareggi promozione. Classico 4-4-2 per i padroni di casa che in avanti si affidano al tandem composto da Manzari e Trotta al Brizio, fermato per oltre due mesi da un infortunio, torna indistinta e parte inizialmente dalla panchina. Non fa le barricate il Mola, anzi se la gioca a viso aperto. Capriati fa il centro boa, Pongo e l'extenzone fischiatissimo dal pubblico di casa, hanno il compito di lavorare soprattutto per il loro centro avanti. La pioggia non favorisce lo spettacolo e danneggia il gioco di prima, fa eccezione però l'azione orchestrata intorno al quarto d'ora della Vigor. Trotta prova a colpire con la soluzione di potenza, Petruzzelli risponde presente e riesce a deviare la traiettoria in corner. Insiste l'undici di Benni Costantino, Martinelli lavora dalla destra un ottimo pallone per Manzari che colpisce di testa di prima intenzione, ma fallisce il bersaglio. La replica del Mola è affidata a Capriati. Al suo destro incrociato sul primo palo si oppone egregiamente Sansonna. Nonostante le condizioni del prato del comunale la contesa non è mai banale. Ci riprovano i baressi, questa volta a Contenzone, il cui insidioso Rassoterra termina di poco a lato. La prima frazione va in archivio e così senza reti. Vigor pericolosa in avvio di ripresa. Una bella azione dei padroni di casa porta al tiro con il mancino Manzari, che però trova sulla sua strada l'opposizione di un difensore ospite. L'equilibrio resta intatto. Benni Costantino decide di cambiare esordio nel 2015 per Albrizio fuori quercia. Non sta a guardare anche nella ripresa il Mola. Guglielmi prova a colpiri al volo intorno all'ora di gioco, ma un sontuoso Sansonna gli nega la gioia del gol d'autore. In genuità, poco dopo Di Pansini, si becca il secondo giallo e lascia i baressi in dieci uomini. La Vigor prova a sfruttare la superiorità numerica. Il mio entrato Fabiano decide di colpire dalla distanza, brivido per gli ospiti, ma la sfera si perde sul fondo. Ultimo segmento di partita. Lo stesso Fabiano carica il destro da posizione centrale, ma anche in questo caso manca il bersaglio. Il gol partita arriva a 4 minuti dal novantesimo. Manzari, quando ha la chance per incidere sulla sfida, non se la fa sfuggire. Petruzzelli questa volta nulla può. Fa festa dunque il pubblico del comunale. Nel finale, il Trani difende la rete del suo attaccante sino al termine e dopo tre sconfitte consecutive ritrova il feeling con la vittoria nel campionato di eccellenza. Tre punti non decisivi, ma molto importanti, nel cammino che porta alla conquista di un piazzamento playoff per i Biancazzurri.